buongiorno e bentornati in questo video vi presentiamo una lente da taschino piccola compatta richiudibile questa lente è formata da due lenti vediamo l'aggancio del taschino poter attaccare un taschino questa è la protezione apriamo la lente vediamo le due lenti una tonda che ingrandisce molto 10x e una rettangolare che ingrandisce tre volte e mezzo adesso stiamo indicando quella tonda e invece abbiamo quella rettangolare che è più grande è ottima per leggere per osservare stampati e da portare sempre con sé avendo anche una lente di 10x la parte tonda è una lente di una certa importanza come ingrandimento normalmente usiamo la parte rettangolare per leggere mentre con il pallino andiamo a vedere i particolari se dobbiamo vedere qualcosa da ingrandire molto ecco qui la vediamo all'opera la lente rettangolare e poi la lente tonda vi ringraziamo per l'attenzione continuate a seguirci sul nostro canale su youtube e se volete potete iscrivervi al nostro canale grazie ancora